Ma bentornati qui su WhatsApp Economy e oggi parliamo di università perché per tante persone è tempo di scelta universitaria finito il liceo e per tanti altri è tempo di ritorno all'università per la sessione di settembre. Sessione di settembre tanto amata a giugno ma tanto temuta ad agosto. Detto ciò come prendiamo questo argomento? Ho fatto alcuni post sulla sezione community di YouTube ma anche ho fatto una sezione domande sul mio profilo instagram giorgio.demarco andate a seguirmi e dove mi facevate alcune domande mi ponevate alcuni dubbi perplessità eccetera eccetera sul mondo universitario in particolar modo ovviamente su quello di economia. Detto ciò io non conosco tutte le vostre esigenze non conosco il percorso migliore per raggiungere il vostro sogno non conosco tutti i corsi universitari di tutte le facoltà d'Italia quindi non venite a chiedermi cosa ne pensi del corso in direzione delle pulci all'università di Frosinone che non ho idea con tutto il rispetto dell'università di Frosinone e anche delle pulci quindi la cosa utile è scrivere qui in basso magari delle esigenze particolari o ulteriori dubbi in modo che altre persone più competenti di me e che magari conoscono una determinata università o rispetto a un altro corso possono aiutarvi poi a sciogliere qualsiasi vostro dubbio. Ok tutto chiaro? Iniziamo. Cosa ne pensi della facoltà di statistica? Ne penso bene fa parte ovviamente delle materie STEM e le materie STEM sono le materie del futuro e i lavori del futuro appartengono all'area delle materie STEM soprattutto in questo in questi periodi pieni di dati di analisi siamo bombardati di informazioni giorno per giorno secondo me una facoltà di statistica è fondamentale per trovare un buon lavoro anche in futuro quindi ne penso ovviamente bene soprattutto se applicata ovviamente all'informatica quindi andando a prendere tutto il tema dei big data data analysis eccetera eccetera di molto interessante e se sei bravo in matematica te la consiglio. Che lavori si possono fare dopo scienze economiche? Allora io mi sono laureato alla triennale in scienze economiche e pensavo che l'unica strada potesse essere quella accademica quindi prendere il PhD finita la magistrale ovviamente in scienze economiche PhD e poi tutto il percorso per arrivare a fare il professore in una università sicuramente quella è una delle strade principali ma non è la sola infatti questa figura può essere benissimo essere spesa all'interno di grandi aziende multinazionali come analista economico per per creare magari dei trend delle analisi di mercato eccetera eccetera ma anche a livello di aziende finanziarie per valutare le condizioni di un determinato paese per valutare le condizioni del minuto mercato e quindi magari dare da supporto agli analisti finanziari per prendere le decisioni migliori quindi non solo un punto di vista accademico ma anche da un punto di vista aziendale questa figura può essere spesa tranquillamente. Come è stato il primo anno? Hai mai dubitato della tua scelta? No non ho mai dubitato della mia scelta e mi ritengo fortunato in questo senso perché ci sono molti ragazzi che magari capiscono solo dopo che non hanno intrapreso la giusta strada per loro invece io nonostante la mia scelta fosse estremamente casuale poi un giorno magari vi racconterò più in dettaglio questa storia mi sono trovato estremamente bene il mio primo anno l'ho vissuto molto bene tolto l'esame di matematica che avevo molte basi grazie al liceo e il diritto privato che è uno degli esami più tosti del primo anno ma che comunque mi sono messo anche se non sapevo nulla di diritto mi sono messo sulla sedia ho studiato per bene l'ho superato tranquillamente l'esame di macroeconomia che anche quello forse uno degli esami più tosti della triennale diciamo che anche lì mi sono trovato molto bene perché la materia mi è piaciuta fin da subito e c'erano molti grafici molti studi di funzioni e molta interpretazione dei grafici e quindi io lì mi divertivo un sacco perché uno degli argomenti che mi piacevano di più nel liceo di matematica era proprio quello delle studio di funzioni analisi del grafico eccetera eccetera e lì ce ne sono parecchie io mi divertivo un sacco a capire come una curva si spostava il grafico la retta le assi eccetera eccetera e quindi diciamo che non mi sono trovato particolari problemi quindi mi sono trovato molto bene e di avere quell'attitudine giusta che non è non è detto che tu ce l'abbia perché comunque c'è anche la componente che ti devi comunque ti deve piacere quello che stai studiando per far diventare tutto molto più semplice l'economia l'università dopo ragioneria è tanto dura e quali sono le principali differenze da chi viene da un liceo ora ovviamente io non ho fatto ragioneria e quindi questo è uno dei casi in cui magari sotto nei commenti potete scrivere le vostre opinioni soprattutto se venite da ragioneria io ho avuto compagni di corso che hanno fatto ragioneria e io liceo e ovviamente gli esami in cui si scontravano di più erano quelli di matematica non solo c'è un esame principale di matematica ma ci sono tanti altri esami come ad esempio macroeconomia microeconomia eccetera eccetera che hanno dietro di loro una base di matematica per poter comprendere in maniera più efficace la materia e su quegli esami facevano un po di fatica cioè purtroppo a quanto pare i ragazzi di ragioneria hanno delle lacune mediamente ovviamente si sta parlando di media delle lacune più grandi in matematica rispetto ad uno studente di liceo quindi probabilmente la differenza soprattutto riguarda quel campo lì mentre poi quando si va sulle materie ad esempio appunto economia aziendale o ragioneria dove io ad esempio non ho fatto assolutamente nulla loro magari avevano una marcia in più effettivamente la economia ci sono tre anni uguali per tutti e poi la specializzazione in finanza scienze economiche eccetera per la quinquennale giusto non ho capito allora tendenziali triennale e magistrale quindi tre più due fanno i cinque anni non c'è un percorso unico di cinque anni come ad esempio scienze farmaceutiche se non sbaglio c'è un triennale magistrale sono i due anni di specializzazione all'interno della triennale in realtà i primi due anni sono molto uguali tra tutti i corsi universitari di economia che voi scegliate finanza o management economia aziendale o appunto direzione delle pulci come ho detto prima i primi due anni sono praticamente uguali per tutti il terzo anno differisce un attimo perché ci sono due o tre esami su sei tendenzialmente ogni anno sei sette esami due o tre sono a scelta del dello studente in base al percorso preso quindi alla specializzazione in base la finanza management eccetera eccetera e poi in realtà la vera specializzazione arriva con la magistrale ho fatto lo scientifico ma non eccello in matematica sei massimo sette motivo per cui mi sento di scartare economia è un ragionamento corretto il mio cosa pensi delle prospettive giurisprudenza e scienze politiche anche io in matematica avevo sei sei e mezzo credo comunque sei in fisica avevo 7 8 comunque mi piaceva di più la fisica in realtà era una aliceo era un ragazzo molto molto svogliato studiavo quando era necessario eccetera eccetera lo so non sono un buon esempio non prendetemi come un buon esempio infatti guardate voi sono andato a finire a fare lo youtuber quindi non prendete esempio da me però detto ciò comunque ripeto io avevo in matematica 6 o 7 eppure gli esami di matematica li ho passati tranquillamente facendo un breve ripasso una settimana prima dell'esame tendenzialmente quindi no non ti non ti consiglio di scartare economia solo per quel motivo magari se altri motivi scartala ma se la devi scartare solo per quel motivo di matematica e del voto no anche perché conosco tanti ragazzi che ai liceo erano i geni e poi l'università hanno fallito e tanti ragazzi che al liceo erano delle mezze calzette poi all'università hanno avuto degli ottimi risultati quindi il liceo e ragazzi soprattutto quelli liceo non 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 fossilizzatevi su questa cosa del liceo dei voti del liceo liceo università sono due ambienti due approcci due modi di studiare completamente diversi e potreste diventare un ottimo studente come alla fine sono diventato io all'università e liceo invece essere uno studente abbastanza mediocre il mio caso ad esempio e non al liceo ero uno studente mediocre all'università sono stato un buono studente non assolutamente non ho nulla di cui lamentarmi quindi non focalizzarsi su questa cosa riguardo invece lo son perso quindi no non è un ragionamento corretto il tuo non escludere economia solo per il fatto di matematica dei voti di matematica liceo cosa ne pensi le prospettive di giurisprudenza e scienze politiche scienze politiche non lo so sinceramente so che è molto bistrattata so che non è ben vista io sinceramente non ho esperienze simili da amici che fanno scienze politiche magari potrebbero trovare un po più difficoltà nel trovare lavoro e allo stesso modo anche giurisprudenza c'è tanta competizione c'è tanta concorrenza e anche nelle statistiche occupazionali giurisprudenza e scienze politiche non eccellano rispetto a magari delle materie più ingegneristiche o anche alla stessa economia quindi se tu devi valutare solo per una prospettiva di lavoro a sto punto prendi economia rispetto a giurisprudenza o scienze politiche detto ciò comunque ovviamente un ottimo studente uno studente geniale in scienze politiche o giurisprudenza è ovvio che troverà il lavoro sicuramente questo è indubbio esame più difficile in scienze economiche dipende dalle tue attitudini potresti trovare matematica come esame più difficile potresti trovare macroeconomia come esame più difficile in realtà questi due esami che magari per molti sono i più difficili non lo trovi assolutamente difficili per me magari uno più un po più complesso più che la materia la struttura di studio io odio gli elenchi puntati io odio la memorizzazione di tutti i concetti eccetera eccetera l'imparare a memoria quindi facevo molta fatica su gli esami molto schematici che andavano in super dettaglio a spiegare le minima cosa anche se non era essenziale essenziale però tu la devi ricordare eccetera eccetera diciamo che uno degli esami in cui ho fatto più fatica probabilmente è stato intermediari intermediari finanziari esami interessantissimo e mi è stato molto utile però poi durante la preparazione non avevo avuto un po' di difficoltà però oltre le difficoltà comunque grazie a dio alla fine la preparazione è arrivata comunque finanza tradizionale contro finanza quantitativa anche qui non lo so precisamente magari di nuovo se qualcuno ne sa più di me che lo scriva pure io ho diversi amici che fanno finanza quantitativa e c'è parecchia matematica ragazzi addirittura arrivano studenti cioè io ho amici che fanno la magistrale in finanza quantitativa che magari hanno fatto la triennale in matematica e quindi finanza quantitativa è una roba è abbastanza complessa però sicuramente ha delle ottime prospettive finanza tradizionale secondo me te la puoi gestire su più fronti non lo so mentre finanza quantitativa è molto specifica su un determinato ambito credo è però ripeto se qualcuno ne sa più di me visto che io non ho avuto esperienza di queste due materie alla magistrale soprattutto penso immagino se ti stia riferendo a questo scrivi qui sotto è possibile passare ad una magistrale d'economia da studi più umanistici frequento scienze politiche scienze sociali e politiche assolutamente sì io ho fatto la magistrale in management e ho avuto compagni di corso che venivano da una triennale in scienze politiche in lingue eccetera eccetera ovviamente ti sarà richiesto prima di accedere al corso magistrale di fare degli esami integrativi e comunque ovviamente dipende anche come studi però qualche lacuna comunque te la porti dietro rispetto ad un ragazzo che ha fatto la triennale in economia e poi va a fare la magistrale detto ciò comunque il percorso è assolutamente fattibile è anche un'altra ragazza che mi ha chiesto su instagram se doveva ricominciare la triennale in economia dopo aver fatto una triennale in adesso non ricordo in lingue se non sbaglio assolutamente no non ricominciate da capo è solo una perdita di tempo passate dalla triennale in lingue scienze politiche alla magistrale in management in scienze economiche in finanze eccetera eccetera ovviamente ponderate la scelta perché un conto è fare management che magari è un po più semplice soprattutto perché manca tutta quella parte di matematica rispetto a una finanza quantitativa o a una scienza economica che sono delle materie un po più ostiche per un ragazzo che non viene da una triennale in economia vorrei studiare enologia ma mio padre non ha un'azienda vitivinicola me la consigli per rispondere a questa domanda prendo anche un altro commento che più o meno è la stessa roba di tipo di risposta ciao vorrei creare e governare aziende di innovazione start up credi che management faccia per me e ce n'era anche un'altra che mi chiedeva se management fosse adatta per diventare dirigente sportivo in una società di calcio ovviamente tutte le risposte sono sì cioè management fa per voi se volete gestire un'azienda se volete diventare un dirigente sportivo e se volete gestire un'azienda vitivinicola però no sì sì il problema è però non ho poi uscito dall'università la ciccia quindi l'azienda per poter andare a spendere la mia il mio titolo di studi e ovviamente questo è un caso eccezionale cioè il fatto di avere un'azienda subito dopo di famiglia magari subito dopo finito l'università per poter spendere al meglio i propri studi è un caso super eccezionale la cosa fondamentale in realtà soprattutto se si vuole fare questo tipo di percorso molto personale quindi gestire un'azienda gestire una start up gestire diventare un dirigente sportivo secondo me il consiglio che vi do è quello di accumulare il più esperienza possibile anche al di fuori del percorso universitario come ho fatto anche io magari un giorno vi racconterò le mie esperienze al di fuori del percorso universitario però io soprattutto la magistrale spendevo molto più tempo ad accumulare esperienze al di fuori del percorso universitario rispetto che a studiare sui libri perché non solo quelle cose che facevo mi facevano capire se era la strada giusta per me perché magari tu lo fai una cosa e capisci guarda non fa per me e me ne vado quindi senza perdere tempo una volta finita l'università e cercare di capire qual è la cosa giusta per te farlo durante l'università e capisci cosa è giusto per te e cosa non è giusto per te quindi utilizzare questa cosa non solo per questo motivo ma anche per accumulare esperienza e per rimpolpare il mio cv per poter per poi avere sbocchi subito dopo finita l'università quindi se tu sei una persona che vuole creare start up non aspettare di finire il percorso universitario per andare in giro a creare start up ma ci sono tantissimi corsi universi tantissimi corsi per creare start up anche gratuiti ci sono tante possibilità di fare tirocini all'interno di start up per vedere com'è l'ambiente insomma cerca di accumulare più esperienza possibile anche per il caso del vino cerca di fare un network all'interno del contesto del vino quindi vai a visitare le aziende vitivinicole vai a trovare contatti con magari le aziende che fanno la distribuzione del vino vai a scuole di alberghiero è importante soprattutto in questi contesti di impresa start up anche in ambiti così particolari come il dirigente sportivo crearsi un network anche poi no in modo tale che una volta finita l'università tu ti sappia già muovere all'interno dell'ambiente di nuovo anche lì se tu vuoi fare dirigente sportivo vai in una società di calcio e proponiti a fare un tirocinio proponiti a anche andare lì e dire guardate io ho questa idea per questa per questa vostra squadra di calcio cosa ne dite no rendervi attivi fare esperienza al di fuori del percorso universitario è fondamentale per la vostra carriera quindi non focalizzatevi sull'università so che magari è un po strano da dire però cercate di università importante non trascuratela ma non spende cioè non appollaiatevi sulla sedia tutto il tempo sopra e sopra i libri ma cerca di fare esperienza anche al di fuori dell'università per accumulare più esperienza possibile all'interno di un determinato contesto per essere più efficaci ed essere appetibili per le aziende e anche per capire se effettivamente è la vostra strada mi raccomando è info importante poi ci ritorneremo riguardo questo argomento di esperienze extra universitarie perché sono fondamentali questa è una domanda molto interessante ed è un tema a cui tengo molto è davvero molto difficile elogorante emotivamente le università come si affronta ragazzi l'università elogorante se si vive male ed è molto facile viverla male conosco molti ragazzi molti miei amici che l'hanno vissuta male la stanno vivendo male e questo molto spesso si riflette anche sui risultati universitari è molto importante stare in salute non solo a livello fisico ma anche a livello mentale curare la proprio il proprio stato mentale e non secondo me almeno il mio approccio è stato quello di non avere l'università come unica strada di vita all'interno del percorso universitario durante l'università ho ottenuto tanti hobby ho ottenuto la mente attiva facendo tante altre cose diverse oltre l'università e questo mi ha aiutato molto a sopravvivere all'interno università un'altra cosa che mi ha aiutato è ovviamente quel fatto che la materia che studiavo mi piaceva molto mi interessava e mi appassionava però è molto molto importante avere cura di se stessi staccare la corrente se si vede che non si è più freschi sbagare la propria mente non vivere in modo stressante la situazione anche il livello degli esami quando si va a fare l'esame è giusto avere la tensione giusta ma non essere impanicati ansiogeni o stressati no la giusta tensione per renderti attivo e performante ma non per poi distruggere completamente la performance durante l'esame dipende tutto molto da te però è molto facile tradurre l'esperienza universitaria negli anni diciamo probabilmente più belli della vostra vita tra i 20 e i 25 anni è molto facile rovinarli con una vivendo l'università in maniera stressante ansiogena perché magari non si è contenti dei propri risultati perché magari si sta pensando che non è la propria strada eccetera eccetera ci sta ogni tanto fare un punto delle situazioni riflettere su quello che si sta facendo sbagarsi io faccio palestra faccio molti sport o molti hobby amo la musica eccetera eccetera quindi avevo sempre una una scappatoia quando l'università mi stava alle calcagne ed è giusto anche staccare perché poi alla fine si vede anche nei risultati non te la vivi bene è tutto molto frustrante eccetera eccetera quindi dipende molto da te è un'esperienza personale ripeto non è detto come dicevo anche prima non è detto che uno studente mediocre all'iceo poi diventi anche mediocre all'università e si gioca in un'altra categoria diciamo all'università rispetto all'iceo ed è importante la sanità mentale e fisica e cercare di essere soprattutto felici di quello che si sta facendo perché altrimenti diventa tutto molto di nuovo frustrante e poi ti viene da chiederti se ne vale la pena tutto ciò quindi secondo me come si affronta si affronta con lo spirito giusto una cosa importante è la scelta della materia che si va a affrontare università quella aiuta tanto perché se tu stai facendo qualcosa che ti piace ti aiuta tanto ad ottenere energie da quello che stai facendo e non a togliertele e comunque anche hobby hobby svaghi fare altre attività oltre l'università e fare esperienze nuove godersi un attimo la vita oltre università prendersi dei momenti di pausa eccetera 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 ragazzi state ben attenti alla testa la testa è fondamentale niente detto ciò sto morendo di caldo magari ne farò un paio altri prima dell'inizio della stagione 3 di whatsapp economy di queste format qui perché io sto morendo di caldo e fare degli scorsi seri mi risulta impossibile in questo momento quindi così tanto anche se non è interessante ci sono tante domande che non ho preso e magari le riprenderemo nel futuro vi saluto e alla prossima ciao